Il fatto che la cittadinanza potrà comunque fare delle convinzioni, questa cosa deve essere fatta assolutamente e la letteremo fino alla fine. I motivi per cui noi siamo contenti, che in base sono molto semplici, come io noto perché questo viene utilizzato come una punizione, viene utilizzato come uno strumento di coercizioni, noi non abbiamo una legge che ci obbliga a vaccinarsi come studenti, a noi viene detto che o ci vacciniamo o ci viene tolto la città dell'università, a cui comunque paghiamo le tasse, a cui comunque siamo iscritti, a cui comunque ci dovrebbe essere consentito seguire, noi ci rendiamo conto del fatto che è molto meglio garantire una didattica presenza, ma ci rendiamo anche conto del fatto che non può essere tolto il diritto allo studio delle persone che sono iscritte e anche delle persone che stanno pagando le tasse universitarie, noi delongiamo moltissimo il fatto che per moltissime situazioni ci sono delle misure che sono veramente un mancanello, che sono veramente delle bastonate senza un motivo chiaro, noi ci troviamo ad avere reso l'abbonamento per la metropolitana, allo stesso tempo che nella metropolitana non è già l'obbligo di riparto, questa non è una misura sanitaria, dentro una metropolitana che noi dobbiamo prendere.